Salve amici del Centro Medio Italiano, prima settimana di luglio che potrebbe partire senza ondate di caldo sul Mediterraneo. Ecco la tendenza. Promontorio anticiclonico, dimatrice africana in elevazione nei prossimi giorni, con tempo più stabile e caldo in aumento. Entro l'ultimo weekend di giugno, ecco una veloce ondata di calore per la nostra penisola, con temperature fino agli 8-10 gradi sopra media. Con l'inizio del mese di luglio, però, diversi modelli mostrano l'arrivo di una saccatura che porterebbe temporali specie al nord e un generale calo termico. Situazione sinottica che la prossima settimana potrebbe vedere un robusto anticiclone delle azzorre in Atlantico e correnti fresche dirette verso l'Europa occidentale, lambire anche il Mediterraneo. Seguite però, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.